Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video sempre da Los Angeles non proprio Los Angeles, lei mi cazzia che non siamo a Los Angeles, vabbè lei è mia cugina Fabriana, ciao a tutti lei è un'infermiera qua negli Stati Uniti e come potete capire è nata e cresciuta qua negli Stati Uniti quindi è un'americana al 100% però di origini italiane perché siamo proprio cugini e di conseguenza parla un po' l'italiano, just a little bit quindi proverà a spiegarvi un po' come funziona qua infermieristica perché molti di voi che mi seguite mi hanno chiesto proprio come funziona infermieristica negli Stati Uniti lei vi proverà a spiegare in italiano se ci riesci, se no magari va in inglese e mette i sottotitoli vabbè proviamo e come funziona qua e poi magari fatemi sapere nei commenti se volete qualche altra domanda che magari la faccio in qualche altro video io come sempre ragazzi invito ad iscrivervi al mio canale mi raccomando attivate la campanella è molto importante un bel like a mille like vi faremo un video molto particolare con lei qua mettetemi le like poi vediamo quindi adesso lasciamo la parola a lei adesso lei ci racconterà e ci spiegherà come avviene il percorso qua negli Stati Uniti per diventare un infermieristica intanto faccio vedere il suo scrub che è molto carino molto bello, in America vanno molto di moda è vero che vanno andata dappertutto con i medici e gli infermieri arrivano in giro per la città sempre con le scrubs vabbè non ci perdiamo in chiacchiere e lasciamo la parola a lei ok allora io sono andata a scuola quando aveva più grande più grande sì 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 lei non è lei no no perché ve lo traduco in italiano lei non ha finito subito la scuola diciamo il liceo è andata direttamente a fare l'università ma si è presa del suo tempo perché in quel momento non voleva fare l'infermiera e ha cambiato idea però diciamo in generale un ragazzo, una ragazza negli Stati Uniti dopo che finisce la scuola cosa deve fare? sì deve andare a college a college, all'università l'università è 4 anni per essere un'infermiera qua negli Stati Uniti ma devi fare un test per cedere oppure puoi andare direttamente? no generale puoi andare mi fai domanda all'università e loro dicono puoi venire, non puoi venire? sì sì è uguale per tutti per andare all'università si prende due esame nel liceo SATs e ACTs ok dopo deve scrivere una lettera diciamo un essay sì una lettera diciamo dove ti racconti, spieghi perché vuoi fare queste cose avere delle lettere di raccomandazione dei professori del liceo sì del liceo e poi devi avere le gradi ok le gradi appropriati devi avere i voti molto alti al liceo ok devi avere voti molto alti al liceo e quindi loro praticamente tu dimmi se è giusto voglio andare all'università di Philadelphia per esempio mandi questa domanda dove scrivi il tuo essay ok poi fai questi due esami al liceo quindi devi saperlo che vuoi fare o servono per tutto generali per tutto esatto quindi sono degli esami e devi avere un voto alto ovviamente in questi esami sì se vuoi essere avvocato, se vuoi essere infermiera, se vuoi essere un dottore bisogno per andare all'università ok chi vuole all'università deve fare questi esami deve prendere dei voti alti quindi una volta che tu mandi la tua domanda loro dicono si può venire o non può venire quindi una volta che ti prendono all'università quindi diciamo è una cosa molto importante da dire se uno non ha le idee chiare qua negli Stati Uniti che magari non sa se vuoi andare al college in futuro e quindi questi due esami non vanno bene non c'è un modo per recuperare sì se puoi andare all'università non è all'università è community college ah community college, si si, junior college tipo sì, puoi apprendere inglese, humanities rifare questi esami e poi recuperare sì, matematici, cose che si servono più servono per fare questo, esatto, ti servono per il futuro e una volta che sei entrata all'università, una volta che tu hai iniziato l'università quindi dura quattro anni, quindi già dura un anno in più dell'Italia perché in Italia sono tre anni per diventare infermiera sì com'è il percorso, cioè come funziona? vai a lezione oppure... quindi hai delle... perché noi in Italia abbiamo le lezioni frontali quindi c'è un professore che ci spiega a noi come funziona, ci spiega le materie poi andiamo a casa, studiamo e dobbiamo fare a fine semestre un esame qui in America come funziona? è la stessa è la stessa cosa però noi andiamo a una cosa che si chiama clinicals quindi dopo il primo semestre ok di scuola di scuola ok apprezzate le attività basiche e le attività di scuola 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 un'idea di anatomia e fisiologia ah, studiando anatomia e fisiologia sì, studiando anatomia e fisiologia studiando nutrizione ok studiando microbiologia ok farmacologia ok, nel primo semestre? ok basic nursing management of adult acute and chronic illnesses si chiama e dopo più tardi pediatrics, neurology, psychology, psychiatry ma l'esame, com'è fatto? c'è un esame scritto? crocette? risposte multiple? ti hanno un voto o ti dicono superato o non superato? ok un voto ma sempre AB oppure AB 86% ok perfetto quindi c'ho tutti questi esami ovviamente magari ci sono degli esami un po' più di pratica giustamente ci sono degli esami di pratica oppure come danno in Italia gli infermieri hanno diciamo delle valutazioni in realtà sono delle valutazioni durante il loro tirocinio però poi alla fine comunque che serve tutto per quell'esame la laurea come... tu sei già laurea abilitata nel senso che puoi già lavorare o devi fare un ulteriore esame per poter lavorare? si devi fare un altro esame per lavorare dopo che ti lauri? si ok però prima quando vai alla scuola c'è un'altra cosa che si chiama clinicals clinicals è due giorni alla settimana lavora nell'ospedale con gli altri infermieri aiuta gli infermiere per fare tutte cose ok e quando c'è una paziente paziente ti devo scusare perché io vivo, io abito l'è nata, cresciuta e vive qua negli Stati Uniti e in California le persone parlano spagnolo ogni tanto sa qualche parola di spagnolo medico diciamo faremo un altro video e vi racconteremo dove lei lavora che è un posto dire particolare e dire poco cioè ve lo racconteremo in un altro video quindi se questo video raggiunge mille like vi facciamo questo video eccezionale cioè veramente vale la pena ascoltare le sue esperienze che ha avuto ma quella è un'altra storia dopo sei laurea e dopo deve studiare per l'esame questo esame è per tutto il paese quindi nazionale si chiama NCLEX NCLEX è devo dire questo in inglese è un testo computerizzato multiple choice exam che è timo hai sei giorni quando rispondi le domande le domande faranno le domande o meno difficile depending su come rispondi quindi se rispondi la domande la domande la prossima domande sarà più difficile se facciamo 10 domande e una domande le domande le domande le domande sono 75 domande la prima domande è 245 o sei giorni ho passato in 75 domande quindi ero in una sala con un computer rispondendo le domande e il computer si chiama dopo 75 domande non lo sai se passi o falli e poi devi aspettare circa una settimana o due per i risultati e una volta che hai il risultato sei un RN o un registro e questo significa che sei licenziato per praticare nel stato in cui vivi quindi praticamente adesso sei un'infermiera abilitata e puoi lavorare per lavorare come devi fare? devi fare dei concorsi perché in Italia comunque ci sono i concorsi per poter lavorare o qui devi fare una richiesta all'ospedale visto che la sanità qua è privata diciamo ci sono delle differenze si ok devi fare la richiesta richiesta per lavorare come fai la richiesta per lavorare in qualsiasi altro posto ok e se loro gli piacciono gli piace ma c'è un colloquio orale o soltanto una richiesta scritta è interview ok orale orale allora io sono molto fortunata perché io ho contratto il capo dell'ospedale quando lavoravo nella scuola durante l'università si durante l'università io lavoravo nel ristorante e che è un'altra cosa che dobbiamo dire anche diventare infermiere è molto costoso quindi non è come da non Italia che riusciamo a farci mantenere i nostri genitori qui purtroppo le persone o devono chiedere un prestito alla banca o comunque continuare a lavorare si per me io dovevo pagare 50.000 dollari all'anno? no no per tutto per tutte le università per quattro anni 50.000 dollari di università quanto praticamente ho pagato io medicina in Italia un po' come di meno io sono fortunata perché il nursing è molto competitivo sì io ho incontrato il capo dell'ospedale però non sapevo che ero il capo ero un infermiere? no il dottore lui è era il chief medical officer era il chief medical officer del quest'ospedale e il fratello di uno che lavorava con te con me sì mio amico mi ha presentato questo è il mio fratello è il mio fratello è una podiatrice oh ok becciare 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 e lui ha chiesto dove vai a scuola e l'ho detto e quindi mi sono andato a Thomas Jefferson University una delle scuole le scuole è anche solo una scuola medica non c'è maggiore inglese non c'è maggiore è solo medicina ok quindi è una scuola molto specializzata quindi stavamo parlando il doctore e io non c'era e lui ha detto ti piace un lavoro dopo aver guardato la carta ho capito che era il head dell'ospedale e quindi più o meno avete capito come funziona qua e quindi è difficile però trovare il lavoro che stai dicendo come infermiera non è facile no perché ci sono tanti infermieri sì perché lei mi raccontava questo ve lo dico io mi raccontava che molti visto che diventare medico è molto molto costoso qua negli Stati Uniti molti scelgono infermieristica e lo scelgono perché non hanno i soldi e come avete capito è costoso è un altro poco non è solamente per questo per essere infermiera possiamo avere una famiglia possiamo avere manage the house sì perché loro lavorano tre giorni a settimana quindi hanno quattro giorni liberi per dedicarsi alla famiglia a creare una famiglia a crescere i figli pulire la casa possono lavorare guadagnare tanti soldi puoi lavorare nella sera di sera fino alle 7 del mattino e puoi tornare a casa e avere la giornata per stare con i figli sì i bambini dormono dormono per questo è una professione molto buona molto richiesta ok ragazzi spero che questo racconto un po' su come funziona infermieristica qua negli Stati Uniti vi sia potuto tornare utile anzi l'ultima domanda faccio un'infermiera abilitata in Italia non può lavorare qua negli Stati Uniti non c'è un modo come noi medici di fare un esame per essere abilitati devono rifare tutto il percorso dall'inizio sì è vero ok quindi se voi volete lavorare qua come infermiera negli Stati Uniti purtroppo non c'è nessun modo per poterlo fare però però forse se vuoi lavorare negli Stati Uniti come infermiera deve parlare inglese beh questo è ovvio come anche come medico sì però se vuoi lavorare in Inglaterra per esempio se vuoi se vuoi prendere la licenza inglese poi puoi portarti la licenza qua in America puoi portare la licenza d'inglaterra in Italia quindi potete fare questa cosa qua altrimenti dovete venire qua in America e proprio rifare il corso tu hai mai conosciuto qualche italiano o straniero non inglese? sì ci sono tanti filipino però in Philippines c'è un accordo con gli Stati Uniti ah ok sì perché i Filippini erano occupati da gli Stati Uniti per molto tempo ma di altri Stati no? Francesi? spagnoli? no nessuno solamente Anglaterra e Australia ok perché evidentemente è molto difficile poi anche laurearsi qua è molto difficile sì va bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto ringraziate Fabriana nei commenti che è stata veramente molto gentile soprattutto perché diciamo si è messa a provare anche a spiegare queste cose in italiano e che capisco che sia difficile per me è la stessa cosa magari se vuoi parlare in inglese e in un pubblico così ampio mi vergognerei quindi ringraziamola mi raccomando ragazzi a mille like vi facciamo uscire un video perché dove lavora lei ragazzi è veramente una zona dire particolare dire proprio vi do un piccolo indizio un piccolo spoiler le peggiori zone che vedete nei film più o meno dove lavora lei quindi ok avete capito tutto quindi iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video il commento qua sotto e ci vediamo nel prossimo ciao ragazzi ciao ciao